Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Come anticipato alla fine del reveal trailer, Nintendo ha fornito durante il Tokyo Game Show 2020 un primo sguardo approfondito ad Hyrule Warriors, l'era della calamità, il prequel di Breath of the Wild in uscita il prossimo 20 novembre. Non solo, lo story trailer Eroi Uniamoci ha permesso di approfondire l'aspetto narrativo del titolo, ma inoltre durante la fiera è stata mostrata circa un'ora di gameplay che ha messo in chiaro alcuni aspetti fondamentali di questo particolare ibrido tra un musù e l'ultimo capitolo della serie di The Legend of Zelda. Le prime impressioni sono più che positive e oggi vorrei approfondire con voi alcuni degli aspetti che mi hanno colpito del nuovo Hyrule Warriors, analizzando nel dettaglio il footage arrivato direttamente dal TGS. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale, attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Partiamo! L'era della calamità sarà ambientato esattamente 100 anni prima del suo seguito, durante la guerra che vedrà il regno di Hyrule contrapporsi alla calamità Ganon, uno scontro dall'esito disastroso che non solo vedrà la caduta del regno nell'oscurità, ma anche il sacrificio della principessa Zelda per contenere il potere malvagio di Ganon. Come confermato dal trailer, il gioco si concentrerà particolarmente, almeno nelle sue fasi iniziali, sul reclutamento da parte dell'esercito di Hyrule dei quattro eroi destinati a pilotare i rispettivi colossi sacri nell'offensiva finale contro le truppe del male. Il trailer ha confermato che non si tratta assolutamente di uno spin-off minore o di un esperimento improvvisato, ma ci troviamo a tutti gli effetti di fronte a un sello di tutto rispetto dell'universo narrativo di Breath of the Wild. La storia di Hyrule e le vite dei campioni saranno approfondite con un impianto narrativo dal forte impatto cinematografico, caratterizzato da un inconfondibile stile grafico che prenderà vita in dei filmati completamente doppiati, anche in italiano. Sempre pensato che uno dei difetti principali di Breath of the Wild fosse stato il poco spazio dato alla narrativa, approfondita realmente solo attraverso delle brevi sequenze di flashback opzionali. E se le personalità dei protagonisti iniziavano realmente ad emergere nel DLC la ballata dei campioni, questo Hyrule Warriors sembra prefiggersi il non semplice compito di ricostruire nel modo più coerente possibile una storia fino ad ora solamente accennata. E il trailer ha mostrato una grandissima cura in questo, introducendo nel migliore dei modi possibili i quattro campioni e le loro personalità, e ha anche il particolare legame affettivo che instaureranno nei confronti di Link e Zelda. Insomma, è chiaro che non ci troviamo di fronte a una semplice reskin di Umusuu, e ancora prima di analizzare il gameplay possiamo stare sicuri che l'Era della Calamità è un Breath of the Wild che incorpora elementi dei Warriors, piuttosto che il contrario. Le sessioni di gioco hanno fornito ulteriori conferme su questa falsa riga. L'ossatura rimane quella di Umusuu, con battaglia hack and slash dall'impostazione 1 contro 1000, ma l'Era della Calamità punta a discostarsi dai canoni del genere. Innanzitutto il cast di personaggi selezionabili sembra molto più ristretto che in passato e per ora, oltre ai quattro campioni e Link, sono state confermate sul campo di battaglia solo Zelda e una giovane Impa. Una scelta attuata con l'intenzione di caratterizzare al massimo ogni guerriero, rendendo così il gameplay il più vario possibile, conferendo ai personaggi un playstyle ben differenziato dagli altri. Ad esempio è molto interessante la scelta dell'utilizzo delle rune della tavoletta Sheikah, strumento disponibile per tutto il roster. Sebbene le abilità dell'artefatto siano limitate, riprendendo i quattro poteri apparsi in Breath of the Wild, ognuno degli eroi li utilizzerà integrandoli in modo consono al proprio stile di combattimento e ad esempio il Glacior di Link sarà ben diverso da quello di Impa. Ovviamente questi poteri si andranno ad integrare con dei moveset ben più vari, che tra combo di attacchi e mosse speciali sono un continuo rimando alle abilità intraviste nel capitolo uscito nel 2017. Come se non bastasse, sono state mostrate più sequenze dove il Link era equipaggiato con armi differenti, caratteristica che conferisce un sapore completamente diverso ai movimenti del personaggio. Non è ancora chiaro se le armi siano intercambiabili al volo e quale sia il sistema di progressione riguardo l'esperienza e l'equipaggiamento di ogni singolo personaggio, ma la grande attenzione riposta nella personalizzazione dell'esperienza, unita a una corposa quantità di loot sul campo di battaglia, fanno intendere una certa stratificazione e complessità anche per quanto riguarda questi elementi strettamente più ruolistici. In generale il feeling del combattimento, sebbene non si discosti tanto dall'impostazione dei Warriors, sembra leggermente meno frenetico e più ragionato. Con meno unità a schermo, ma potrebbe trattarsi semplicemente delle fasi iniziali dell'avventura e il ritorno dei perri e delle schivate mutuate direttamente da Breath of the Wild, l'era della calamità potrebbe introdurre nella serie una dose di tatticismo in grado di elevarsi dal basilare button mashing che affligge un po' tutti i musù. Ad esempio, ho trovato molto interessante l'aggiunta di alcune delle interazioni fisiche che rendevano vivo e dinamico l'open world di Breath of the Wild, come ad esempio la possibilità di estendere gli effetti di Glacior applicandolo su delle zone d'acqua o la capacità di far scoppiare degli incendi utilizzando degli attacchi di fuoco nel mezzo della vegetazione alta. E sono felicissimo tra l'altro che Hyrule, la stessa mappa di gioco, rivesta un ruolo fondamentale anche nell'era della calamità. Se è stata abbandonata l'impostazione open world in favore di mappe di media grandezza dove sarà possibile avanzare solo completando obiettivi, i livelli non saranno delle semplici arene spoglie, dei contenitori dove verremo gettati per trucidare migliaia di nemici senza sosta. Nel world building, più che in ogni altro aspetto, si vede il lavoro che Koei Tecmo ha svolto a stretto contatto con il team di Nintendo e Anuma, con degli stage in grado di rimandare immediatamente ai paesaggi mozzafiato dell'Hyrule post calamità vista nel 2017. Per i fan della saga, insomma, anche l'esplorazione assumerà un ruolo fondamentale e qualcosa mi dice che si verrà distratti ben più di una volta mettendo in pausa i combattimenti dopo aver riconosciuto qualche luogo familiare. C'è ancora molto da scoprire di Hyrule Warriors, l'era della calamità, ma per ora, quanto mostrato del titolo, va ben oltre le mie più rosee aspettative. Ci sono alcune perplessità che si risolveranno solo strada facendo. Ad esempio non mi convince la scarsa varietà dei nemici, così come sono curioso di vedere il roster di personaggi giocabili nella sua interezza. Un ruolo fondamentale verrà anche rivestito dall'offerta contenutistica esterna alla storia principale, come il funzionamento del multiplayer in locale, le modalità di gioco alternative e la struttura del post-game. Tutti elementi necessari per evitare quella sensazione di stanchezza che puntualmente attanaglia all'impianto di gioco de Musou, degli esperimenti in grado sì di rapire giocatori con un'azione coreografica e frenetica, ma che ben presto non si rivelano in grado di tenere alta la soglia di interesse e divertimento. Per me si tratta comunque di uno dei titoli da tenere assolutamente d'occhio per queste vacanze natalizie e sono proprio curiosi di sapere cosa ne pensate voi, poracci. Come al solito vi aspetto nei commenti per capire qual è il vostro punto di vista su questa inaspettata fusione di genere e narrativa e prima di salutarci benvito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Hyrule, Michele Warriors, ciao! Ciao!